A Palma di Montechiaro iniziano i lavori di consolidamento e rinaturalizzazione delle pendici dell'abitato del centro storico di Contrada Orti e della villa comunale. Gaetano Ravana. Si avviano i lavori di consolidamento e rinaturalizzazione delle pendici dell'abitato del centro storico di Contrada Orti e della villa comunale di Palma di Montechiaro. L'avvio del candiere è previsto proprio per il prossimo mese. Il sindaco Stefano Castellino a novembre ha consegnato i lavori alla ditta alla presenza del direttore dei lavori del titolare dell'impresa giudicataria delle opere del RUP. Il progetto prevede interventi aventi l'obiettivo di mitigare il rischio geomorfologico e la vulnerabilità idrogeologica dell'area attraverso la realizzazione di opere quali la riduzione delle problematiche geomorfologiche del pendio roccioso tramite la realizzazione di un sistema di rafforzamento corticale a mezzo di chiodatura composa in aderenza di pannelli e di reti e funi metalliche, intercettazione e regimentazione delle acque ruscellanti provenienti da monte e mezzo di specifico canale di gronda e pista pedonale, riduzione delle problematiche idrogeologiche tramite la realizzazione di una nuova integrale canalizzazione delle acque bianche comunali e il contenimento e contrasto dei muri di sostegno dissestati. Il percorso perdonale consentirà di ammirare un panorama meraviglioso mentre si raggiungerà nei luoghi del Gattopardo e della città. L'amministrazione Castellino ha partecipato all'avviso approvato con decreto 560 del 3 luglio del 2017 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Ambiente della regione siciliana. L'azione è 5.1.1, interventi di messa in sicurezza per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera. Con DDG numero 869 del 29 ottobre del 2019 è stata approvata la gradatoria definitiva delle operazioni ammesse a finanziamento. Il consolidamento e rinaturalizzazione delle pendici dell'abitato del centro storico di Contrada Orti e della villa comunale è risultato ammissibile a finanziamento ed ultimamente collocata nella gradatoria per l'importo di 1.800.000 euro, progettazione definitiva ed esecutiva e lavori, giusto progetto di fattibilità approvato dalla giunta comunale. Con DDG 395 dell'11 maggio del 2020 è stata approvata la convenzione stipulata tra la regione siciliana, Dipartimento regionale dell'Ambiente e il Comune di Palma di Montechiaro. Nel febbraio del 2021, dice il sindaco Stefano Castellino, è stato affidato l'incarico per la redazione del progetto esecutivo, direzione dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ed è stato affidato al RTP ingegnere Giuseppe Giannetto, al geologo Fabio Ucchino e all'ingegnere Danilo Trimarchi. Con deliberazione della giunta municipale è stato approvato poi il progetto definitivo il 4 gennaio del 2022, ossia quasi un anno fa. Il progetto esecutivo è stato trasmesso il 28 febbraio del 2022 dall'ingegnere Giannetto e gli elaborati contabili aggiornati al prezzario unico regionale per i lavori pubblici dell'anno 2022 e sono andati in gara i lavori che sono stati aggiudicati dalla ditta Combat Scarl. Nelle prossime settimane del 2023 verrà aperto concretamente il candiere, un'altra importante opera per la nostra città, ha concluso il primo cittadino.